Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo bitrate elaborato. Non so neanche come definirlo, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Vediamo come categorizzarlo in caso. Allora, cosa è successo? Dopodomani uscirà Kingdom Hearts 3 Remind, unico DLC, ne abbiamo già parlato, ci sono analisi, così via. Oggi la pagina ufficiale giapponese di Twitter di Kingdom Hearts ha rilasciato un piccolo pezzo di Q&A per l'appunto chiamato 7 luci e 13 oscurità. Oggi ha postato le 7 luci, ossia appunto 7 risposte rapide a 7 domande altrettanto rapide sul Remind, sull'aggiornamento, su quello che verrà. Non hanno ancora postato le 13 oscurità, non si sa ancora di cosa parleranno quelle altre 13 domande, ma per adesso vediamo le 7 domande, le 7 luci, alla quale Tai Yasue, il co-director della serie, ha dato risposta. Iniziamo. Prima domanda. Cosa c'è di nuovo nell'update gratuito 1.07? Si potranno ottenere i Keyblade Porta Fortuna e Lontano Ricordo. Avranno anche le loro fusioni dedicate, fusione di luce per il Porta Fortuna e fusione oscura per il Lontano Ricordo, con azioni annesse. I due Keyblade possono essere anche usati in Dual Welding con la Double Form. La chiamo Double Form perché non si sa qual è sia il nome Ita, non so se è doppia fusione, mi suona male onestamente. Abbiamo anche aggiunto 6 abilità, sistemato alcune cutscene nel gioco principale, questa cosa mi fa pensare ai famosi capelli di Riku, e sbloccate molte scene nel gioco che precedentemente non potevano essere condivise. Il fatto che ci sia il blocco per molte scelte oppure nel teatro. Questo è solo l'update gratuito che avremo tutti, anche chi non ha ordinato Remind. Sottolineo come Lontano Ricordo si ottenga finendo il gioco a modalità critica, mentre il Porta Fortuna si ottiene finendo il gioco vedendo e scattando le foto di tutti i Porta Fortuna. Appunto finendo il gioco seguendo queste direttive si otterranno degli oggetti specifici, che probabilmente verranno trasformati nei Keyblade appositi. Seconda domanda, perché focalizzarsi sull'aggiunta di una modalità foto come i Fotosaluti e le presentazioni? Sin dalla release di Kingdom Hearts 3, molti giocatori hanno creato screenshot e video davvero fighi che ci hanno impressionato. Quindi volevamo aggiungere qualcosa nel DLC che espandesse ancora di più questa possibilità. Nelle presentazioni sarà possibile selezionare temi e musica di sottofondo per realizzare un album o un video come lo si desidera. Dopo aver realizzato la feature, tutto il team di sviluppo ha partecipato ad un contest per testarlo. È possibile creare situazioni toccanti mai successe nel gioco con certi personaggi, o creare situazioni uniche ed inaspettate. Siamo convinti che molti giocatori godranno di questa funzione. Terza domanda, perché creare il Premium Menu che conterrà il Fast Pass ed il Black Code che renderà le cose più difficili? Il Premium Menu è una feature che permette la modifica di diversi aspetti del gioco. Dove aver iniziato una nuova partita è possibile selezionare il Fast Pass o il Black Code. Il Fast Pass include settaggi come l'auto Iperguardia ed è mirato per giocatori che vogliono procedere spediti con la storia. Il Black Code, invece, ha settaggi come il Drain di HP ad intervalli regolari ed è mirato per giocatori che vogliono godere di una sfida più difficile. Entrambe le modalità hanno i loro obiettivi e si possono modificare diversi settaggi al fine di raggiungerli. Per esempio, tra gli obiettivi del Fast Pass, uno richiede di viaggiare dalla Torre di Rapunzel alla città di Corona, toccando il suolo un numero definito di volte. Un po' come dire che magari il Black Code si fossilizza più sulle sfide effettive, come distruggere un boss, un nemico con certi handicap, mentre il Fast Pass ti fa le sfide fighe come fai questo senza toccare terra, fai questo volteggiando, fai questo sputando in a... 4. I membri della nuova organizzazione 13 appariranno come boss dell'episodio Limit Cut, ma sono diversi da quelle del gioco base o sono versioni semplicemente più difficili? Chi è il più ostico? Le versioni Limit Cut sono completamente diverse. Abbiamo cambiato la loro intelligenza artificiale e le loro mosse, il loro pattern d'attacco. Sono tutti più forti o più divertenti a modo loro. Potrebbe essere necessario essere bravi a parare, ad attaccare o a leggerne le mosse, il che significa che diverse persone troveranno la difficoltà in diversi membri, come quelli che trovavano Demix facile. Come fate? Penso che i più difficili, comunque, siano Sion e Master Xenot rispetto agli altri. Sono così snervanti ed è così soddisfacente batterli, che le mie mani hanno continuato a tremare per un quarto d'ora dopo averli battuti. Tra l'altro, piccola nota, è stato scelto Limit Cut per l'appunto, perché questi sono i boss che hanno superato il limite, per l'appunto sembra una cosa da Dragon Ball, che hanno tagliato il limite che dovevano avere per essere boss di storia, perché il loro essere boss di trama li ha circoscritti ad una facilità interiore, mentre il Limit Cut distrugge questo limite. Per questo si chiama Limit Cut. Punto 5. Abbiamo creato un sondaggio per i tester e gli sviluppatori, che hanno sconfitto i precedenti boss nella serie di Kingdom Hearts, e hanno risposto con È forte abbastanza da farti piangere. È un boss segreto con molti pattern d'attacco, e ci vuole molto tempo prima di poterlo padroneggiare. In ogni caso, proprio come i 13 del Limit Cut, c'è una strategia per ogni mossa del personaggio, quindi non è difficile ingiustamente, ed è possibile sconfiggerlo senza prendere danno se si pondera ogni azione. 6. Cos'altro è stato aggiunto a Remind? Per l'appunto, lo scenario aggiuntivo Remind, il quale è complementare al finale della storia, e permette l'utilizzo di Kairi, Roxas, Riku e Aqua, con nuove azioni cooperative. In più, il solo DLC giapponese permetterà di avere il doppiaggio inglese. Questa cosa non succede al contrario, al punto che attualmente è già disponibile nel preload nipponico il download della sola lingua. Mentre, sottolino come da noi, non è disponibile il doppiaggio giapponese, e probabilmente non ci sarà perché se no sarebbe già stato disponibile per l'appunto. Ultimo punto, messaggio per i fan. Il DLC espande le battaglie, la storia ed il sistema in maniera completa, in modo che Kingdom Hearts 3 possa essere goduto ad un livello maggiore. Per coloro che vogliono godersi la storia e l'utilizzo dei nuovi personaggi, selezionate Remind. Per quelli che si sentono creativi, ci sono i fotosaluti e le presentazioni. Per chi invece vuole delle sfide, ci sono i boss delle mid-cut. Per chi invece vuole ascoltare della buona musica, c'è il concerto, nel caso abbiate comprato la versione apposita. Ci sono contenuti per tutti i gusti. Questi in parole povere sono le sette luci, ma c'è un'altra cosa, una piccola aggiunta. È stato aggiunto un post al blog di Square Enix, che oggi non crea sospetto, perché adesso recita così. L'espansione aggiunge nuovi contenuti, tra cui un nuovo scenario con dei contenuti di storie aggiuntivi. Ma quando è stato aggiunto questo contenuto nel blog, invece di including a new scenario, c'era scritto including a new world. Semplice svista corretta, oppure qualcuno si è lasciato sfuggire qualcosa. Magari era la sottolineatura dell'ampliamento di scala e del final world, oppure c'era qualcos'altro. Con questo è tutto per quanto riguarda questo video. Come al solito, se vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione. Spread the knowledge, sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo... Al prossimo video!